E' una delle intersezioni stradali più trafficate e strategiche della città. Oggi, dopo un lungo periodo di sperimentazione, cominciato tre anni e mezzo fa con New Jersey provvisori, è iniziata l'ultima fase per rendere definitiva la rotatoria di Largo Tre Martiri. E' partita infatti questa mattina la fase di asfaltatura del Rondò, che durerà fino a giovedì con turni di lavoro diurni e notturni. Lo scorso mese di gennaio è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo con lo stanziamento di 400.000 euro finanziato dagli Enazioni, che comprenderà anche un analogo intervento sulla vicina rotatoria fra la Statale e via Milano, si cui si interverrà probabilmente dal mese di settembre. La rotatoria di Largo Tre Martiri di fatto lega uno snodo strategico, quello compreso fra la Statale 16, la via Ponte Vecchio, il lungo Foglie Caboto, il ponte Brigata Ebraica e via Lucio Accio. Sarà una rotatoria con un diametro esterno di 25 metri, con corsia in uscita dalla larghezza di 4,5 metri ed entrata di 3,5 metri. Un progetto che avrà anche isole sparti traffico e si completerà con nuovi attraversamenti segnalati e una nuova illuminazione. Un intervento dunque strategico che dà corpo ulteriore al vecchio progetto Zero Semafori avviato dal sindaco Ricci oltre cinque anni fa.